Lea Law Whisper A-S-L-L Ciao ragazzi, come state? Allora spero bene Allora, ho cambiato location, sono sempre in ufficio Però nella parte del magazzino che dovrebbe isolare il rumore della strada Il problema è che nel magazzino c'è una porta di gente al condominio Quindi vogliono ascensore e fanno così, speriamo, non sono tanti Quindi non ci dovrebbe essere troppo rumore se dovrei stoppare il video Perché a casa mia purtroppo stiamo parlando con l'amministratore Però cancelle i rumori, è impossibile Tre, il mio cane che è Duster, il mio cuccio di cane Duster E più che altro Leo Si rincorrono così Leo per scappare mi sale sul tavolo Quindi se sto facendo un video praticamente me la rovina E quindi sono dovuta venire in ufficio Nella parte del magazzino Si dice, oh, l'ho chiusa la porta Si dovrebbero sentire rumori Lo auguro Allora, rinanziamo Ritorniamo con il catalogo Ti avvo Dovete scusarmi Ho le mani sotto la piccola telecamera Perché non ho potuto usare l'altra telecamera In quanto non c'è molta luce E ho dovuto tagliare le unche per il mio lavoro Allora, noi qui abbiamo Avvo Ok E della campagna 9 Che va da inizio al 30 agosto E finisce il 19 agosto Per poi è Subentrare Poi subentrere la campagna 10 Io dico che questa campagna è di mezzo Non c'è tantissimo make up Perché Avendo Creato Dei prodotti nuovi Non potevano fare un catalogo così spesso Allora Qui c'è una modella Che rappresenta Un nuovo profumo Che è uscito Che se non sbaglio È l'orchidea A sinistra non vedete Ma ci sono solo gli indici Ok Allora La modella dice Ispirata all'ustro delle orchidee Perché questo profumo Che avete visto all'inizio E all'orchidea Qui c'è la capsula È plastificata Però si sente moltissimo L'odore E il profumo La fragranza dell'orchidee All'usso dell'orchidee E questo è il profumo E un'armonia Notte olfattive Arancia mare Orchidea nera E cardigna dorata A 16,99 euro Però C'è sempre la promozione Qua sotto Quindi se voi prendete Uno spray da borsetta Da 10 ml Più una lezione corpo Da 150 ml A Euro 99 E si mette il codice Potete acquistarla Acquistando uno di questi profumi Perseguiamo Poi abbiamo Ispirata Alla passione Dell'amore Abbiamo il nostro tipico GJ Today In cui abbiamo La cassola da provare Io riconosco Questi profumi Sono anche molto buoni Allora abbiamo il Today Che praticamente In alternativi Sono schiari d'arancio Cattos verde E legno di cedro A 19 euro Sotto C'è Una lezione corpo Da 150 ml Un euro Praticamente La promozione Che vi ho spiegato prima Se voi prendete Uno di questi profumi Potete avere La lezione corpo Da 150 ml Per ogni spray Acquistato E si inserisce Il codice D'una fragranza corpo Poi abbiamo Ispirata Ai fiori d'oriente Che è Fairy Way Infiniti Che tutti Conosciamo Ed è questo Profumo qua Per chi non lo sapesse Contiene la calendula Il ciasomino Indiano Da vaniglia Del Madagascar E qui abbiamo Uno spray da borsetta 10 ml Più una lezione corta 150 ml Acquistabile Spieghiamo E la fantano Se si acquista Un promo Come Far Away Qui abbiamo Ispirata L'artioso aurora Incandescence Qui c'è da strofinare Incandescence Allora Diciamo che Più di Far Away È un profumo Che Mi riconosce Perché comunque Ha un frizzonte Bergamotto Rosa E un morbido Muschio 14,99 euro Con la stessa Promozione Poi abbiamo Il nostro Sempre La Belle Con la stessa Promozione Ave Innominata A 16,99 euro Che contiene Pionia White Crystal Maniglia Lampone Ispirata Allo Spirito Ribelle Qui c'è Da provare Fragranze Dolci Infatti Orientale E fruttata Contiene Creme Di casis Fiori D'arancia Cioccolato Salato E toffini E questo E questo Farway È bello Molto buono E so che a tanti piace A 16,99 euro Con la promozione Che vi c'è scritto Qui abbiamo Sempre Il nostro Upper Safe E hanno creato Una nuova Versione Infatti Come vedete C'è scritto Novità Qui in alto Un giorno Nuovo Che è Grumata Come profumazione Al mandarino Al gessomino E la mimosa A provare A sentire È legnosa Sì Anche comoda È legnosa Ci sono Dei profumi Allora Abbiamo O di bocchè O di bocchè Diverso Allora Il primo Sesto qua Sensuale Profumo Di mandarino Lissomuschio Poi abbiamo Armonia Perché comunque L'armonia Floreale Fruttata Il secondo Al mandarino Gessomino E legno Di santolo Altri Profumazioni Nuove È A Petit Il Petit Ha Questo qua Il primo Ha Il dolce Profumo Di pesca Rosa E iriste Ed iriste È molto buono Il secondo A 7,99 euro Il secondo Ha delicato Profumo Di Pera Fiore di pesco E muschio Che andiamo a sentire L'iriste Oltretutto Mi piace molto Non so Volpero L'iriste È molto buono Quindi con la pera E per il pesco Qui abbiamo Qui abbiamo La promozione Degli sprite DGML 2,99 euro Quindi Farewell Gold Abom True E Farewell Glamour Qui abbiamo Tutti Editoranti 2,99 euro E qui Mettono Difficile Per te A 2 A 30 euro Tutti i profumi Che sono usciti Nell'ultima Campagna Qua abbiamo Il nostro set Di stoffa Mosche A 11 euro 99 Voi potete avere Il profumo Il Ditorante Rollo E borotalco Voglio dirvi Che il borotalco L'ha provato molto Mia mamma È un borotalco Molto fine E sottile La fragranza Quindi l'anti-sodora La fragranza Sì È Floreale Moschiata Perché c'è un muschio Ma è buonissimo È un'ottima È un'ottima Composizione Perché vedo Un profumo Che è un'otto Etoilette Non un'otto Parfama Ma un'otto Etoilette A 10 euro 99 Il Ditorante A 350 E il TALCO 290 Potete avere Tutti questi 3 prodotti A 11 euro 99 Con il codice Qui abbiamo Qui abbiamo Una delle ultime Diciamo Sette Che sono usciti Ed è Incanto Prova Tutta la linea 4 A 30 euro E c'è Una corpa Da 250 ml La spray Corpa Da 100 ml Una Qui c'è una Bouchette Per ogni Due prodotti Di make up Acquistate Da pagina 20 Pagine 65 Bouchette La potrei avere Da 2 euro 99 Ed è Bellissimo Molto Elegante Allora Questa è Una novità Che c'è Nel mio pacco Perché la presa D'alleva Le cliente Anche Mia mamma E Si chiama Appunto Line Smoking Sfumato Come vedete Dagli occhi Potete fare Una linea Normale Leggermente Più spessa E poi Sfumarlo Perché fa Satelliner Che comunque Diciamo Da un pretto I colori Tentamente Sanno Sul Verdone Sul Biola Sul Nero Sul Grigio E Questo Costa 7,50 Ma Venimmo Zerano Qui abbiamo La matita 2 in 1 Per definire Il modellare Cioè Chi ha già Dalle ciglia Può riempirle Con questa matita Che costa 5,99 Ci sono Le varie tonalità Quindi Cioè Soff Black E dark Brown Quindi Se uno è più Scuro Compererebbe Questo I look Trend Hanno Formato Un nuovo Un nuovo Mascara Come vedete Con un pennellino Volume Lunghezza Definizione Solleva Nero intenso E qui C'è il coccolo Ti sarai Coccolata Per ogni Due prodotti Di mercato Acquizzate Paggina 65 La pochette Quindi Se voi Prendete Per esempio Questo Rimmel Potrete Con Soltanto 2,99 Acquistare La pochette E' davvero Il primo Mascara Monto Tutti In uno Sì Mascara Cinco In uno Lash Genus Altro Quindi Volume Ciglie Sollevate Definizione Precisa Sguardo Sollevato E nero 8,99 Poi Qua La finitura Per Trenti Della Stagione Perché Trenti Ed è Un Sensazione Morbida Finitura Metallica Perché Utilizzano C'è E' costruita Da polvere Opacizzante Particelle Metalliche E quindi Una tinta Labbra Metallica A costo Di 7,50 E c'è 3 colori Nude Blush Pink Rose Cerco Bordeaux Ci sono tutte Le valide Qua abbiamo Sempre Senti Smalti Qua Tutti I pennelli Che partono 5,99 Insomma 6 euro Tutti i pennelli Il pennello Per ombretto L'applicatore Doppio Per le liner Tutti i pennelli Qua abbiamo Un set Tutti 19,99 Costituito Da Uno stick Illuminante Mark Questo qua Da Un Liner Gold E da Un look Passamente Votato Smoking Ombretto Smoking Con cui si può fare Sono queste tonalità Insomma Nero Grigio Questo Tutto 19,99 Poi abbiamo Un fondotinta Radioso Un ottimo Trattante Quindi Per pelli Secche Ottimo 9,50 Una cosa nuova Che è una copertura Totale Controllo Dall'effetto Lucido E questo Invece È Inversamente Per le pelle Grasse Che toglie Lucido Molto buono Sembra 1,50 Poi qua Abbiamo Il nostro Fondotinta Noi abbiamo Il nostro Correttore Effetto Matte Quindi Per chi ha la Pseca Non lo consiglierei Troppo A 5,99 Correttore In crema A 5,99 Stick A 5,50 Quello nuovo Hanno fatto uscire un nuovo Correttore Che si chiama Correttore Illumina La Fondru A 5,99 Ed illumina Questo Qui poi Abbiamo Le nostre Matite Allora Abbiamo La Col Che conosciamo Parecchio E Quasi Tutti Poi abbiamo La formula Morbida In gel Quindi Attenzione Che il trucco Possa Ovviamente Scendere Perché in genere È molto È molto Morbida È buonissima Però Attenzione Il trucco Perché potrebbe Deportare Se non stiamo Attenti Il trucco Sia Sopra La palpebravissima Che Fissa Che sotto Sono Arbicolari Ma è molto Buone Ci sono Tutte le tonalità Una nuova Novità È data Questa Qua Praticamente Lo chiamano E-Line Liquid The Big Dot Mark Come vedete Dall'occhio Lo potete Lo potete vedere Fa I pallini La cosa Carina Anche Da fare Allora Questo 5,99 La L'eliner 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 Qui Qui abbiamo Tutti i set Un trucco con primer Incorporato Per un colore Lungo e tenuto Quindi Gli ombretti A 9,99 I vari Mascara Volum Modulabile Ci sono I 3 Dic A seconda Di come Uno Poi Le ciglia A 9,99 E Mascara Voluminante Mark A 9,99 Poi Abbiamo I ombretti In crepe A 4,94 Crea Il Do look La pre-matte Quindi abbiamo Il rossetto Che sono I rossetti Matte Che tutti Conosciamo A 0,50 Il L'eliner Cremoso Il colore Intenso E Stratenuta Sempre Stratenuta E Stratenuta 3,99 Poi abbiamo D'alta pigmentazione Con primer Rosetto Epic Quindi Rosetti Epic A 4,99 E poi Abbiamo I matte Rosetto Delicate Matte A 7,50 Poi abbiamo Tutti Plush Luminosi Questi Delle varie tonalità 7,99 L'effetto Lucido Polvere Matte Per contrastare L'effetto Lucido Quindi Una cifra Compatta Cifra Compatta 7,99 E poi Abbiamo La copertura Correzione Correzione Colore 5,99 Diciamo La novità Abbiamo La terra Solare Bronze E Glow Jumbo True 9,99 Dal colore Più scuro Debb Matte Al meglio Light Matte A 9,99 Qui Abbiamo Le matite Per gli occhi A 2,99 L'ombretto Stick 4,99 Il Mascara Turbo Per volume Curvo E lunghetta 4,99 Mascara lungante 4,99 Dalla 30 Definizione Per le sopracciglia Abbiamo La formula Incluso In una Modella Ciglia Sopracciglia Le modelle Poi si mette La matita La matita Costa 350 Il modellamento 3,90 Qui abbiamo Sempre Il formato Per aiutare Il soggetto Di sebo Quindi Per belle Grasse Abbiamo Il fondotinta Della 33,99 Pesta Protezione Copertura Leggera 99 Con Le tre tonali Da Light Light Medium 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 Tap Poi abbiamo La gratta Assorbente Per controllare Se può In eccesso L'effetto Lucido Che è Questo qua Mi scuso Se non vedete Molto bene Questo qua Che vedete Nero E bianco Sono Appunto Delle Cardine Assorbente Con Spugnette Specchietto Contengono 80 Fogli S99 Per Togliere Appunto La lucidità Del viso Poi abbiamo Il Perfect Mud A Dio Effetto Lucido Affondamento Liquido Con Le varie tonalità S50 Poi Le solite Gli ombretti Della Lux Vi ricordo Che è la Linea Lux È una Linea Per Pelli Mature È la Linea Lussuosa Quindi Abbiamo Le ombrette 11 20 Il Primer Più Fondotinta A 13 20 Colore Tonalità La Cipre Compatta Sempre Stringato 12 20 E L L Bellissimo L Liquido Lux A 10 20 Qui Colore Intenso Per Le labbra Abbiamo Lux Vi ricordo Che Il Rossetto Lux Ci sono Vari Tipi Per E E Mio Madre Usa E Non Solo Lei Il Rossetto Lux Che è un Nude Perché è un Shimmer Nude Però Sensation Cioè Che Oltre Alla Tonalità Come avete Visto Spesso Nei Cataloghi In mezzo Al Rossetto Qua Questa Portione C'è Portione Bianca Perché Vi Gela Le Labbra E Vede Rimpolpa Questo Però In questo Catalogo Non c'è C'è Nel Catalogo Otto Ad esempio Io ho fatto Un ordine E noi Quando facciamo Gli ordini Possiamo Prendere Anche Da Quella Campagna Quindi Io ho preso Lì Comunque Questo Viene 8 20 È Una Linnea Lossuosa Qui Vi Ammolle Ammolliente Labbra E Che Praticamente Questo Qua Che Praticamente Da Di Trattazione L'abbra È Un proprio Trattamento L'abbra Che Ne 6 20 Abbiamo Il Mascara Pumenzante Insieme A 10 20 Qua Abbiamo La Carnagione Giovanilla E Quindi Una Cipra Leficante Terma Cipra Compatta Antità E Ne 13 20 Conduita Nuit Beige Soft Beige E Correttore Trattamente Dettaglio Fair O Medio Poi abbiamo Per Labbra Due In tinta Labbra Lip Tratto Mark E Questo Che Vedete Questo Qua Che Ci sono Le varie Tonalità Due Nuoi La New Mark Quindi Abbiamo Il Nero Viola Il Verto Viola La Matita Contorno Occhi Klima Stick Quindi Quella Luminosa Mascara E Poi Abbiamo Una Novità Che Si Far Vedere Che Sono Le Gocce Luminante Flash If Mark A 16 Euro Un Po Le Fatte Anche Kiko Le Gocce Proprio Effetto Radioso Effetto Luce Di Varie Tonalità Per C'è Il Deve Sapere Il Rosa Vabbè Qua Mettono Sesh Cloud Perché Comunque Sono De Illuminanti Il Rosa Il Bianco E Forse Il Grigio Ecco Qui La Novità Di Questa Campagna Allora Tanti Di Voi Ne Ha Conosciuto Questi Qua Io Ne Ho Tutta Una Collezione La Differenza Che L'hanno Riformulato Per Cui La Differenza Qual È Infatti L'hanno Chiamata Pulse 6 16 Hour Allora Questo Dura 16 Ore Prima Secondo È No Transfer Per cui Non si Mangiate Non sta Se vi Baciate Non succede Niente Se Mangiate Ovviamente L'olio Sempre Così Per tutte Tinte Lab Rosetti Vi Dicendo E Questa Novità Che C'è In Campagna 9 Che Ci Sarà In Campagna 10 Per Acquistarlo E Ci Saranno Varie Tonalità Molto Belle Io Ne Ho Acquistate Tre Può Abbiamo Editorante Uomo Individere Blu Anche Questo L'ho Acquistato Due Prodotti A scelta Solo 5 Euro E Sono Da 150 ml Ci sono Tutte Le Fragranze Qua Ci sono Tutti Profumi Qua Abbiamo Life Color E Quindi Abbiamo Un nuovo Profumo Costituito Da Magnolia Limone E Tè Verde 27 Euro I Suoi Profumi Black White Senza Radice Di Centrofiore Di Tabacco Note Guiate Quindi Comunque Lignose Poi Abbiamo Sempre Black White Night Od Toilette Sprite Bergamotto Noce Moscata Ambra Nera 13 Euro 99 Ne Hanno Trovato O comunque Ho creato Un nuovo Che si chiama Black White Odds Spray Notte Legnose Legnose Verde Di Cuoio E Questo Lo provo Molto 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 Buono Non è Floreale È un misto Molto Molto Buono Ve lo Consiglierei Questo Qua Black Swy Odds Toilette Sprite 75 Mel 13 Euro 99 Poi Questo Qua Che trovate È Black Swy Essenza Un'armonia Legnosa Con Accenti Orientali Che Crea Una Fraganza Fascinante Incredibilmente Maschile 13 Euro 99 Ed è Composto Da Un Rizzante Mandarino Lavante Cuoio Vi ricordo Che la Lavanta Tra Tutti Gli effetti Terapeutici Che ha È Quello Di Rilassare Istendere E Lo Proviamo Buono Anche Questo 13 Euro 99 Poi Piamo Sempre Masmaris La Avon Avon Free Hot Dueless Spray Provare Quelli Tipici Questo Deve Sare Un uomo Fuspito Vedete Che Bianco Tocco La Mano Lo Provo Per Voi Questo Non Andrebbe Molto Per I Gosti Per Un uomo Perché Ne sa Un po' Troppo Floreale Ma Comunque Molto Così Comunque Vi dico Cosa Contiene Contiene Il Pepe Nero Del Madagascar Fresca Armonia Foucher E note Muschia Da 11 Euro 99 Spray Però Vabbè Poi Vediamo Sempre I nostri Soliti Profumi Quindi Il Mask Marine Che è Basilico Canella Legno Di Cedro Il Mask Torn O Toilette Spray Tutti Dicevoli 99 Menta Fresca Notte Regnose Muschi E Poi Il Bersaio O Bersil Comunque Di Salve Legno Di Cedro Che Ormai Si Conosce Il Pulse Questo Mi sembra Nuovo Come Pulse Quindi Lo Proviamo Ma Mi Lascia Un po' Dubbio Per Per Il Gusto Personale All'arancia La Salvia FDV A 6 Euro 99 Per 50 ml Questo 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 Qua Il Vittori E Vittori Posso Dervi Che Io Non Farò Regalato A mia Nipote L'ho Usato Tutto Quest'anno Perché Insomiglia Un po' Azzaro Ed Buonissimo Oltre Tutto Vi Fanno L'offerta Due Prodotti 17 Euro 50 Quindi C'è Il Vittor 75 ml E Il Detergente Corpo I Capelli E Veramente Fidatemi Che Questo E Proprio Assomiglia Proprio Azzaro E Buonissimo Quindi Se Volete Fare Un Regalo A vostro Fidanzato A vostro Marito Vittori Vittoria La certezza Sarà Vittoria A 17 Euro 50 Con Il Codice Unico Poi Abbiamo Due Prodotti 12 99 Quindi Individual Blu Con L'antistrutturale A rollon A 12 Euro 99 Molto Buono Anche Questo Che Abbiamo Nostri Tirologi Sleep Da uomo 25 99 Box 29 99 Poi Abbiamo De Farigioni Che Comunque Convengono Una vita Impegnata E 99 I Reggiseni Tutti I Reggiseni Che Comunque Appello Le donne Non Dico Alle ragazze Giovani Però Magari Quelli Che Hanno Già Trent' Anni Di Usare I Reggiseni Con Il Ferretto Sotto Perché Laddove C'è Una Dosi Della Mammella Comunque Dell'arco Sotto Servono Quelli Che Contengono Un ferro Questi Per esempio Hanno Il ferretto Sotto Ma Non Sono Push Up Hanno Solo Il ferretto Sotto Vedete Un ferretto Sotto 13 50 13 50 E Di Solito Sono Quelli Che Sono Sempre Otturo Vanno Via Subito Quindi Le varie Sì Le varie Di Virgi Siano Trasparente Come Vedete Questo 11 99 Bianco Nero E Nudo Con Le varie Visure Che Potete Trovare Bianco C'è Questo Tipo Fascia Ma Io Le consiglio Del più Giovane Perché Quando Già Si Avvicina A Se Trent' Anni Il seno Bisogna Sostenerlo Quindi Come Un ferretto Perché Le fasce Non Tengono E Fanno Diciamo Il muscolo Lo Rilasciano Quindi Poi Con l'età Ci sono Qualche Problemini Scusate Ma Io Vi dico Che Prossimamente Troverò Del location Tipo Che magari Andrò una volta La settimana Da mia sorella Scusate Scusate È 39 27 Purtroppo Più Detto Sono 10 Il condominio Andrò Da mia sorella Che è in campagna Sul cazzo Valla Riaperta C'è Molto Silenzio Per farvi Video Per chi Non so Più Che location Dove Registrare Mi Dovrei Fermare Con il Video Allora Proseguiamo Questa È Uno slip Vita Semi Alta Da 1 Precola Per Trattenere Quindi I Muscoli Dominali Per Reggisene Comun Che ho Detto Non Trattiene Quindi Questa Devo A 13 50 E Quindi Dobbiamo Fare Reggisene Tutte Le varie Formazioni Reggisene Senza Ferretto 36 99 Con il Ferretto 30 99 Insomma Pochini Vari Bigiame Vestiti Comodeggiare Jeans Orologi Scarpe Qua inizia un po' di Picciottaria Orenchini Argenti Luzi Placcatura Colore Rosso Carini 3 Euro 99 Guardate Anche La Parte Del Scusate Ma Non ci posso Fare niente Guardate Anche Dicevo A parte Picciottaria Perché Hanno Delle cose Molto Carine A poco Prezzo Colanine Anche Molto Easy Tipo 7 Più Di Questo Qua Molto Sottile 6 Euro 99 Il set Perché C'è il set Comprensivo Di Un set Regalda 11 pezzi 5 braccialetti 5 paio Orecchini Una collana corta Placcatura Color oro 6 Euro 99 Il bracciale Questo qua Sono tante cose carine Abbiamo gli orologi Cinturino regolabile Vabbè Batteria Battone Accioio inossidamento Plastico Ottone Vedere Silicone 14 95 Insomma Vestiti Abbi in un posto Poi potete chiedermi Le cose Sciarpe Scarpe 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 La ginnostica Già parte Una borsa L'orologio I fari occhiali Le pochette Le borse 16 99 Tutti i bracciali Guardi Anche questi Carini Questi bracciali A 7 euro e 99 Beviamo i sedi Del Sette collane Orecchini Anelli Ma che è nato A 12 euro e 99 Bellissimo Da fare un regalo Magari Lo prendete adesso Poi fate un regalo Per Natale Per Natale Sono degli ottimi regali O come questo Orologio Sto appena Ho presenti Di orizzini Che ci sono qua Ci sono Le palline I fiorellini E' un'ottimo regalo E' un'ottimo regalo Sono un'ottima Di cali Ho il bracciale Cortelli 2 euro e capelline Zinco Accia Ochione Pietro Di vetro 10 2,75 E targatori 2,5 Centim Конcolare E corrispondono I segni Forse Non li vedete Per chiari Ma corrispondono I segni Tutti i cali Per esempio Questo qua Vediamo se lo trovo dovrebbe essere perché così io gli occhiali non vedo molto bene comunque come vi dicendo ci sono i segni sono le novità queste a seuro 99 ci sono tutti i simboli dei segni tutti a casa non i segni simboli poi ci sono questi braccialetti con la vostra lettera iniziale a seuro 99 insomma tutti gli anelli che io adoro questi qua le ferie dispense così attenzione soltanto che dovete chiedermi che è una vostra consulente se non volete chiedere a me perché vanno a misura quindi c'è 6, 8, 10 quindi dovete prendere la misura del vostro dito secondo di quale a quale di tu vorresti mettere magari l'anello a 6,99 euro collane carinissime poi viene tutta la parte dei biumoni lenzuoli biumoni a 130 trapunte è una piazza in me di 6,99 euro insomma tante cose bellissime salmone col disegno della tour di parigi collezione amore parigi infatti si chiama prima una parte della cucina allora questa è una cosa nuova ultima tendenza delle maschere maschere vista da zaini di vetra tante 5,50 euro quella con la mongolfiera maschere idrogell periviso stazione super navigante quindi abbiamo due maschere la collezione ha novità delle creme abbiamo le creme al fiordilotto al latte che è super idratante e alla caccia 5,99 euro 30 grammi ma vi dico che durano tantissimo in golf abbiamo la linea che voi conoscete le new per le varietà la maschita tanta da notazione avanzata va bene queste le conoscete tutti una novità sulle creme è anche il siero potenziatore di luminosità e new vitamina C 19,99 non per te di piccata la Q10 perché è molto importante un'altra offerta star e sono delle novità a parte l'essere new doppiazione hanno creato una nuova crema che fa parte della ultima offerta star a 50 euro vi danno porta con te ovunque due indispensabili quindi la crema ora è new la new ultimate il siero che già il siero costa e la nuova crema a new ultimate che poi vi sfigherò col col codice e poi andiamo avanti perché è organizzata come sono non scusate il rumore un attimo mi ha sentito un secondo perdonatemi ma sono in una condizione estrema tipo adesso cato e non se ne parla più ok allora va bene qui abbiamo i prodotti che vi non potrei parlare se me lo chiedete in altri tutti i miei pei capelli allora andiamo là eravamo arrivati qui eravamo arrivati qua ci sono le promozioni quindi 3 a 36 99 vi portate via il praticamente l'emozione gold per contribuire a a riattivare le 7 proteine della bellezza poi avete e praticamente il 7 a new ultimate che contiene la crema idratantità attenzione avanzata a new ultimate suprema crema da notte oro 7 6 e la new ultimate quindi è una buonissima promozione poi qua abbiamo la bella di dettagente rigenerante per belle normali secche a con trucchi hanno creato un uovo a 4 99 lo stroccante a due fasi per occhi a 4 99 lo scrub micillare conoscevate abbiamo un po' di promozioni a 2 a 6 99 mascara voluminizzante super show che l'acqua micillare o a 7 99 servite distrugganti con l'acqua micillare della linea nutri e con il fondo di intenti stress prima di andare avanti vorrei ricordarvi scusate ma la batteria cercherò di far qualcosa vorrei ricordarvi che la linea nutri effett si basa su principi naturali il che non vuol dire che non contenga siliconio peggio che sia biologica no contiene solo principi naturali vi faccio un esempio la crema nutri effett idratante contiene i semi di chia quello è un principio naturale i semi di chia sono un principio naturale ma purtroppo ahimè sapete avon non è una linea biologica naturale quindi non è così pessima nel senso non è così brutta però comunque i siliconi li contiene e quando voi acquistate c'è il picchettino dentro con i principi oltre che in internet li potete vedere andiamo avanti c'è tendenza maschere in foglio hanno creato le maschere in foglio per tutti diciamo un pieno di antiossidanti maschere antiossidanti appunto le creme trattanti nutri effetti iteration quello che vi parlavo prima era iteration motifing che è per pelli grasse e la radiance che è poi stata notte per pelli secchi molto buone baby cream quindi antiossidanti al melograno perché vi ricordo che il melograno appunto ha un'azione antiossidante di invecchiamento poi vabbè i dettagli con forma li conoscete già è prodotti per i capelli se avete delle di dubbi me lo potete chiedere hanno creato della linea che è buonissima come la 10 benefici lo shampoo mi sembra sì il dry shampoo secco vaporizza da una distanza 30 cm di spazzola 3,99 anche questo è un buonissimo prodotto abbiamo sempre tutti i nostri 2 euro 2 a 8 euro ci sono shampoo balsamo albico puro di carità pomperma frutto della pazione con complesso vitaminico basilico fiore di lodo con complesso vitaminico aloe macadamia e questi sono shampoo e pasta non solo di shampoo invece ci sono mantele avocado miele giociopo fiore di ciliegio camille aloe lamponi piscover pienamente piperita cioccolato noccia brasiliana nuovo e vaniglia vera quindi un 1 a 4 52 8 euro poi come fragrance spray no acqua profumate hanno tirato fuori questa nuova che a parte pomperma bigo che ha pomperma rossa e menta quella nuova è tè verde e per pena 1 a 2 euro e 99 2 a 4 euro benissimo siamo oggi in 84 minuti purtroppo catalogo è lungo c'è questa promozione allora questo è un bagno schiumo freschezza al giro frutto al limone praticamente limonata poi c'è un multiuso idratante che serve per il corpo al cetriono e questo gel che può rinfrescare gambe ai piedi tutto comunque 19 euro e 50 poi abbiamo il bagno schiuma allora questo qua è verde anche se lo vedete è blu è del bagno schiuma che si chiama goodbye tenzio che ha il mandarino lavante muschio quest'altro che lo proviamo ma io ho già sentito è dolce ve lo dico perché contiene noti profumate che vabbè rischiano due giornate quindi i fiori che sollevano il fiorato altre cose nuove che ho sentito sono i sensi i sensi non sono i pati bagnischio normali ma sono più delle creme d'occia e l'hanno fatto sensore e froganza in mele cartegna e l'altra rosa scarlata e bagiuli molto buono perché quella allora la crema d'occia mele cartegna dei zens è arricchita con olio di legno di sandolo mentre quella con rosa scarlata e bagiuli è arricchita con olio di prezessi di arcano e sono molto buoni poi abbiamo gli intimi gli antissuturali che conosciamo già c'è un'ottima promozione per il corpo 1150 della Fonwork che sono praticamente dei gel tipo questo c'è il ghiaccio c'è l'anticellulite effetto freddo perché proprio vi gela e l'anticellulite ad azione termica con la calentina per l'anticellulite io consiglio questo in inverno esatto che costano è un'ottima promozione poi abbiamo per i piedi di otterrante taggola menta la maschera a 7,99 euro una maschera più una crema a solo 7,99 euro poi vabbè di picco se questa cosa non la so come la pensate voi comunque un set a 7,50 euro scrap uno scrap più una lozione uno spray solo ragazzi non vi spaventate energia d'autunno al basilico pomperbo però non è detto bisogna provarti e c'è appunto il codice che potete prendere tutti 3,7 euro e 50 a me lascia un po' sospesa un po' basilico però non è detto andiamo avanti abbiamo l'olio l'olio di cocca d'azio incinerante questo sappiamo abbiamo l'olio da corpo la multifunzione la crema mani la crema viso una novità su quanto concerne sempre le creme l'olio di corpo al burro di cacao buonissimo e questa qua che trovate più chiara la seconda la seconda la seconda l'azione nutramente detergente cioè voi vi potete lavare sotto la doccia questo è fatto apposta per lavarvi e mentre vi lava nutra la vostra pelle se avete una pelle molto secca poi passiamo la crema da mani e la mucchiuso questa qua nutramente detergente costa 4,50 euro quindi prezzi molto convenienti poi altre novità vabbè abbiamo tutta linea corpo alla banana per chi l'ama quindi la formula ricca di proteine l'azione per il corpo alla banana oppure col dispenser la banana e le creme mani la banana se no io vi consiglio che è molto buono perché ho dato a mio padre quest'altra linea qua questa dove c'è il dito questa è yogurt e miele vi garantisco è molto delicata non vi da nausea e ha tutta la linea per venire prima che prima che mi decada tutto c'è qui in cagnolini abbiate pazienza vedremo come fare questi io li ho presi e ve lo consiglio se avete le mani per voi stessi tutto quanto abbiamo hanno creato la Roma Therapy Calm all'eucaliptogenese menta tanto che ebbene il 50% io li usavo alla camomilla e camomilla e l'altra casera si che poi è tipico ma non mi viene più il nome ve lo dirò dopo perché c'è comunque io l'ho già provata questa è buonissima e ti dicevo sapevi che l'eucaliptogenese è il noto per la sua capacità di simulare gli interessi nei momenti di apatia mentre la mente aiuta a recuperare il equilibrio nei momenti particolamente stressanti allora lo potete spruzzare nella stanza dove dormite la sera spruzzarlo come faccio io io lo metto sulle federe perché aiuta al rilassamento o bello dato che avrò una terapia quindi saranno gli essenziali dopo doccia allora c'è eucaliptogenese metta 6,50 euro poi c'è bergamot limone italiane quello che so io era questo lavanda francese camomilla e c'è sia il burro per il corpo che lo spray da spruzzare come vi ho spiegato con la maschera viso a notte poi abbiamo il diffusore della fragranza sempre con lavanda francese camomilla e poi abbiamo il diffusore in fragranza che con gli essenziali potete mettere quello che volete il catalogo finisce con questo abbiamo un ottimo olio per i capelli allora potete c'è l'olio con olio di camelia che nutre i vostri capelli e ti arricchito con l'olio di arcan qua mi dice 10 10 centimili vabbè 10 metri così oppure c'è l'irresistibile sieroidratante all'olio di cocco come potete vedere questo ho l'olio di cocco sapete che cocco ha molte funzioni tra quale ti nutri e trattare tanti capelli 1 a 4 90 3 a 12 euro allora vi chiedo ovviamente scusa perché vi ho fatto un'ora di catalogo era il mio primo catalogo volevo un po' dirvi tutte le novità soprattutto per il catalogo della campagna successiva che sarà la campagna 10 quindi forse dovrete ascoltarlo un po' a tratti nel senso di eh nel senso di arrate come Alessia cianna smr che qui mando macina dovrà ascoltarlo così però quando si legge un catalogo il problema è proprio questo che ho vi leggo 3-4 pagine o per descrivervi le componenti le promozioni tutto quanto si fa a lungo termine allora questo video termina qui vi voglio dire due cose allora se voi avete delle consulenti avun e vi siete interessati ad alcuni prodotti potete tranquillamente ordinatevi per quanto mi concerne io ultimamente l'ho ripreso quindi faccio degli ordini già un minimo da 30 euro 30 euro perché come faccio nel passato non faccio tramite post e vi mando il corriere a casa quindi meno di 30 euro io non vi posso aiutare a meno che non mi trova già a fare un ordine X allora vi posso inserire qualcosa ad ogni modo mi potete contattare su Facebook su Instagram su la mia email scrivetemi in privato anche solo per avere delle informazioni su certi prodotti che vi posso spiegare più nello specifico se vi piacciono questo video mettete un like vi ricordo che amo i commentini a cui rispondo sempre adesso sono le 8 e 28 e anche un pochino allo stomaco qualcuno però ha sempre ascoltato i miei mouth sound probabilmente non so se mi vedrete in viso perché ho una faccia purtroppo mi sono alzata alle 5 quindi è una faccia stranita perché chiama i eating sound non troppo pastiosi io cerco sempre di farli leggeri perché anche io non avevo quella categoria vi proporrò appunto questo eating sound per adesso io lea lo whisper whisper a else a r vi auguro un dolce o una dolce buonanotte e un po' relax ragazzi ciao 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 e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Ciao